Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di un proviamolo Oggi siamo su un gioco che si chiama Devil May Cry Pick of Combat Allora è un gioco uscito per mobile un paio di giorni fa per smartphone Lo sto registrando nella vecchia maniera, non sto utilizzando il mio smartphone da gaming Se il gioco vi dovesse piacere ve lo porto con quello così almeno non abbiamo problemi di lag, non abbiamo problemi di gioco e di sorta Ok? È un gioco abbastanza pesantino, è un gioco che c'è anche delle region quindi probabilmente ci saranno anche situazioni multiplayer È un gioco appunto stile forse più console che smartphone quindi non adatta a tutti gli smartphone Quindi dategli prima un'occhiata e una prova Direi di accedere intanto come questo e andare a vedere un po' com'è il gioco Vi salterò probabilmente qualche video perché non interessa tanto la storia ma interessa vedere il gioco Se dovesse piacervi andiamo avanti e magari diamo anche un'occhiatina alla storia Ok? È già tradotto in italiano, è già completamente disponibile su Play Store Lo trovate secondo in classifica Quindi niente male perché ovviamente è anche un gioco nuovo quindi già secondo in classifica Vuol dire che ha tirato diversa attenzione e probabilmente sta andando anche discretamente Ovviamente è la prima settimana Dopo la prima settimana si vedrà se regge la botta o meno perché ovviamente è come Monopoli Monopoli rimane là, se leva Ok? Allora faccio un piccolo set dei comandi e torno immediatamente da voi Ok ragazzi settato il tutto vediamo un po' qualche comando Ok? Ci può appare un pezzettino di storia Questo ce lo possiamo pure vedere perché comunque è la presentazione iniziale Spero che sentiate bene l'audio Perché io non sia troppo fastidioso in mezzo alle scatole Già vedo un bel nemico cattivo da gestire Potrebbe essere carino Questo è tutto da smartphone regà Ok Però è interessante il nostro Dante E anche i nostri nemici vedo Bene Tanti bei pistrellini E direi che ci siamo Ci fa muovere Allora abbiamo un po' movimentazione della telecamera Un po' comoda da un punto di vista Forse ci vorrebbe un lock Ok Se tengo premuto a lungo faccio una sorta di combo Perfetto E combo specifiche va bene Abbiamo anche un jump Ovviamente spostamenti vari Ok Vediamo un po' se riusciamo a fare questa cosa Bam 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 Combo in volo Come da David McRae Ovviamente ci dovremmo abituare un po' ai movimenti David Shoe Non ci concederò Altro tempo Vai Un cosino volante Rompi scatole Ok Lui Grazie ovviamente Esercizio di caccia I demoni si stanno muovendo verso la biblioteca Ok Oddio mi si è cancellata la scritta Segui Non si legge più No Ah ok Come per tutti i giochi mobile Andando a premere sopra la quest Vi manderà in direzione della missione Va bene Quindi Altro mini boss di allenamento Molto cattivo Blood pride La fine è vicina Le traduzioni in italiano mi fanno tanto felicità Comunque subito immediatamente del gioco Anche perché Salta No Ok Ah il salto con la spadata in jump Quindi così e bam Ok Interessante Ole Tieni per muto Ovviamente lo stiamo massacrando di botte poraccio Un altro Preso Bella Non si rialza più Bam Ok ho sprecato una combo in volo forse Office level up Non so cosa sia Te lo spiegheranno sicuramente Andiamo a dritto Biblioteca Per ora se la cava Per ora se la cava Anche su questo dispositivo Che non è il mio smartphone Quello Da gaming Ok Mi sa che abbiamo sbloccato un'abilità in più Che forse non devo sprecare in questa maniera Ok Passiamo un po' Ah ho capito In quella maniera magari facciamo la combo E lo indeboliamo Ah Diciamo che ci sta anche una situazione di Combo Da gestire B Ho fatto una B Cominciamo a prenderci la mano Ecco la telecamera è un po' Da gestire Secondo me potevano mettere un lock Allora qui puoi controllare i prossimi premi Va bene Office level up Stamina aumentata Va bene Ci sono delle missioni giornali da fare Come in tutti i giochi Di queste tipologie Per ora Non ho collegato nessun account Quindi sto giocando normalmente Come vedete sono le 11.40 Quindi sto registrando in pratica Immediatamente dopo Monopoli La morte è imminente Non puoi scappare Oh oh Aiuto Aia Madonna Questo mena Uh Li shadow Io ho fatto una schivata in faccia Ok Vai Schiviamo la grande Boom Olè Però non so come sto andando Oh abilità speciale Fa pure la scena abilità speciale O è solo perché Siamo durante la storia Ma è solo perché siamo durante la storia Ho cambiato forma? Ho cambiato forma? Cosa? Mamma mia Combattiamo così adesso? Bello Vai così Tecnica Ah posso cambiare forma quando voglio E cambia pure l'abilità No cambiano i danni Va bene Stiamo facendo S per ora Ok Ida Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche cosa carina No perché mi sei bloccata la combo? SS vai Boom SSS style Le cattiveria Bam Giampino Ida Comunque sto prendendo delle botte anch'io eh Per carità Però penso che sia in modalità un po' più seria Ahia Ma ha fatto troppa Gli S Ha incastrato contro la parete Per quello che vi dico No adesso il lock c'è contro il boss Eh vedete però la telecamera che fa A me sto gioco mi dà un po' fastidio Per la situazione Cioè il gioco è fatto molto bene Molto fluido ci piace Però Però Devo dire che la telecamera potevano farla meglio Almeno che nei settings non si possa aggiustare Quello lo vedremo poi Dai questa è scena storia Ci sta Ovviamente Perfetto Non è riuscire a buttarla giù Con una zampata Beh infatti c'è rimasto male Ma in frente apri In effetti Tanto impegno E poi neanche se apri Ok Altri demoni per noi Non c'è mai una pausa Uh Qualcuno con la moda è arrivato in volo Cattiva Che piace Aggressiva la tizia Ok Una bella bomba Lanciata in aria così Giusto per Sweet arsenal lady Va bene Ah possiamo usare Gli altri tizi Oh Quindi si possono utilizzare Anche altri personaggi Posso cambiare anche arma Ok Ah ok Mi sta insegnando a fare combo Con quella che spara Oddio Angioletto E' un angioletto demoniaco Fallen shoy Infatti è decaduto Il re demone regna sovrano Aha Cattiveria Ok Mi ha dato un'altra spell Da provare Crazy Abbiamo anche l'abilità speciale Dove stanno i nemici? Ecco perché dicevo la telecamera E' una rottura di scatole Secondo me devono mettere Un Cosa Come si chiama? Sound Crazy Mi sa io ho fatto una combo Bella Vedete io ho continuato a rotellare Però non mi sono potuto girare Quindi è droppata anche la nostra abilità Vedete la telecamera che brutta Quando si gira in quella maniera Non rimane sul focus Questa è una cosa che Un po' mi urta Spero che la sistemino Sinceramente Allora Ovviamente Facendo su esercizi di caccia Vi porta verso la missione Bene Così Office livello 6 Poi perché office? Forse Ci sono i livelli di zona? Addirittura Forse si chiama ufficio? Bella domanda Sembra molto fluido il gioco Comunque Nonostante Ripeto Non siamo su Smartphone da gaming Allora Pam Pam Oh Ah posso fare il change in volo Oh Belle le combo sincronizzate Bellissimo Bellissimo davvero E lo prendiamo in volo Infatti ho fatto A Stupenda sta cosa Mamma mia Boom Dove stanno i nostri amici? Eccoli Pam Una bella super Sulla faccia Wiccino tattico Bam S Sto portando un S a casa Alla grande eh Wiccino Sbam in volo Sono morti? Sì Ho fatto un S mi sa Ho fatto un bellissimo S ragazzi Complimenti Quanto siamo bravi GG Ok Altra scena Dai ce le gustiamo Perché non sono lunghissime Mi pensavo peggio Sono scene più di presentazione Dei boss Più che di storia Per essere un gioco smart Fa un tatto di cappello Oh Puri sotto titoli Oh che adorabile piccolo insetto Oh Per lungo? Come per lungo? Sta che bisogna Ah Ok Stanno anche Scene Di fuga Che bisogna evitare i colpi Nel momento giusto Perché ce ne ce pigliano Vabbè ovviamente I pezzettini di storia ci stanno Da gestire in quella maniera Molto carini Vai così Piccola accelerata Adesso è arrivato un max Perfetto Adesso si farà la battaglia Che ora è proprio contro Lo scorpioncino Con la faccia dello scorpioncino Sì in effetti è un po' travolgente Concordo con te Ci piace Ci piace Siamo pronti a massimizzare Ok Caricamenti Fortunatamente anche molto veloci Devo dirla tutta Vedete Cambiamo zona Siamo nella zona archivi Cassaforte sbloccata Che cos'è la cassaforte? Cosa fa la cassaforte? È evoca Ci stanno evocazioni? Possiamo evocare i personaggi Di David McCrally Delle altre serie? Knight of the Order Lucky draw Epic nero What the fuck Veramente Formazione Possiamo fare la formazione Con più personaggi Possiamo fare un change a 3 addirittura Sviluppare ovviamente Il personaggio Migliora Aggiunta rapida Migliora Va bene Interessante Quindi abbiamo sempre Le solite cosine Quelle lì di potenziamento Aggiungi il cacciatore Alla cosa di allineamento Eccolo qua Sfida Chi dobbiamo sfidare? Ok Adesso ci farà combattere Contro uno dei demoni Che non penso sia il ragno Di prima Silver Knight Sangue per sangue Sangue per sangue Ha detto due volte la stessa cosa Un po' impazzito Ok Allora A me la cosa che mi dà fastidio Appunto È questa Aiuto Dolore Cambia Ok Va bene Va bene Qua là Ovviamente sto mirando all'aria Perché sono pirla Olè Comunque ci dice pure Quando fare l'abilità Quella del jump Ce lo consiglia Olè Vai fratellini Bam Beh dai oh Niente male Lui cino Ti trasforma anche lui No Che ha fatto Un'abilità Che ovviamente ha lisciato la mia Ok Bello Presa in volo Bam Ok Parettino Vai così Switchino tattico Preso È il problema Stammina ancora lui No È vivo È vivo Pensavo di no Ok Dunque ci ridà i consigli Delle abilità da fare Eccola Bam Vai così Switch Boom Bam Fantastico Ok E vai così Sparettino magico Change Eh sto calando un pochino Perché sto sbagliando I combinazioni Olè Olè Bam Fantastico Contro del 90% 100 evocazioni Cosa è successo? Vantaggi sbloccati Ah sono i vantaggi Che ci dà il gioco Capito Complimenti per l'acquisizione Vabbè ci ha dato le robe Gli accessi giornalieri Quindi diciamo che da questo punto in poi Il pezzo di missioni potrebbe essere fatto Ci sono arrivati un sacco di premi Ovviamente per lo scaricamento del gioco Riscatta tutta la grande Poi ovviamente se volete vedere il gioco Analizzeremo meglio tutte queste varie situazioni Intanto cancelliamo tutto perché abbiamo già preso tutta la roba anche per il preorder Perché ovviamente mi ero registrato Sicuramente ci saranno altre cose Infatti c'è l'opening qua da fare Ovviamente ci stanno tutte le varie scene dei personaggi Endless judgment Royal guard Selezione arma Quindi pure le armi bisogna potenziare Va bene Un gioco come al solito che ha parecchie robina dietro E ci sono anche vocazioni da fare che non so se farle immediatamente o meno Abbiamo 930 di questi diamantini Rimanente 39 Cioè possiamo fare 39 open No ok ho capito male Allora ragazzi questo è David McRae Pick of Combat Un gioco molto interessante e fatto molto bene Ovviamente c'è qualche problemino con la telecamera Ditemi qua sotto nei commenti se magari lo volete vedere In modalità con appunto lo smartphone da gaming che ha più qualità E niente arriviamo a mille like Condividete i video e iscrivetevi al canale Lascia l'hashtag proviamolo qua sotto nei commenti per ricevere un codicino E ci vediamo nel prossimo video